partiti lungo l'arco della curva Lupus Inchimax prosegue in vantaggio Inast si è portato in seconda posizione all'esterno di Orleans quindi passaggio e Hubris Cavalli ora in retta di arrivo con Lupus Inchimax in vantaggio nei confronti di Inast dietro i due si è appostato Orleans in anticipo su passaggio e Hubris siamo a 300 dal palo con Inast che passa attaccata all'esterno da Orleans dietro i due passaggio nel tratto finale Inast attaccata da Orleans nel finale lotta incerta Inast all'interno Orleans all'arco nelle battute finali Inast all'interno e Orleans all'arco fin sul palo poi passaggio su Hubris andiamo a rivedere Mirko Vimmocchi su Inast all'interno e Giuseppe Erjekovic su Orleans all'esterno in un serrato finale testa a testa probabilmente la spunta Inast con il numero 7 ma anche in questa occasione visto i minimi di stacchi aspettiamo il risponso del giudice d'arrivo All'interno e Giuseppe Erjekovic su Inast all'interno e Giuseppe Erjekovic su Inastricht 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 Grazie a tutti.